E' dal 1949 che il 14 agosto a Lavagna un suntuoso corteo storico in costume medievale attraversa le vie della città e si conclude ai piedi della Torre Fieschi, ricostruzione di un'antica costruzione militare oggi inglobata nel testuto urbano di via Roma. Secondo la leggenda, il conto Pizzo Fiesco nel 1230, tornato vittorioso dalle sue imprese guerresche, decise di sposare una bella senese, Bianca dei Bianchi. Il matrimonio, d'amore oltre che d'interesse, venne celebrato con grande sfarzo, tanto da donare alla popolazione una gigantesca torta nuziale. Ancora oggi, dopo la lettura dell'annuncio delle nozze, la contessa effettua il taglio della torta, un dolce di 13 quintali confezionato dai maestri pasticceri di lavagna. Dal momento del taglio inizia il gioco, in cui il pubblico può trovare l'anima gemella o perlomeno gustare una fetta di torta. Anche quest'anno diverse migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione, con momenti di spettacolo, musica, danze e duelli. Lo speciale dedicato a questo evento andrà in onda domenica alle ore 21 su Imperia TV.